La sala metrologica fa parte del component center in qualità. Questa stanza a volte viene chiamata una stanza a zero tolerance perché per noi il particolare va bene quando noi gli diamo l'ok definitivo senza tolleranza. In Pomigliano our main value is we are customer centric. We have three fundamentals. The first not to receive issues it means we will work with the suppliers to receive good parts. Not produce issues it means we build the quality at the workstation with training with good machine good method and so on. And the last one is we don't pass this issue. We have to protect the customer. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di arrivare a produrre una vettura che sarà la soddisfazione nostra e quindi dei nostri clienti. In particolare c'è tutto un team di persone che vengono qui a lavorare con noi che sono i progettisti, colleghi che sono più vicini alle attività dei fornitori, gli specialisti di qualità, i tecnologi della lastratura, della verniciatura, del montaggio, della plastica. Il cliente Alfa è un cliente speciale e noi vogliamo trasmettergli le emozioni che noi stessi proviamo qui quando sviluppiamo il modello. Grazie. 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 Grazie.